Cari concittadini, buongiorno e buon veneri. Ottime notizie per San Vito questa mattina. Proprio in prefettura c'è stato un vertice di grande importanza con autorevoli rappresentanti del governo, il ministro Ciriani, il sottosegretario del Mastro, in videoconferenza i rappresentanti del Ministero dell'Infrastruttura e l'amministrazione comunale di Pordenone, il sottoscritto per la nostra cittadina e naturalmente il prefetto col suo staff e ovviamente l'impresa Pizzarotta. Stiamo parlando del carcere, l'incontro di oggi ha visto finalmente un allineamento di tutte le partite sia di carattere giuridico che economico e abbiamo avuto le rassicurazioni da parte dell'impresa che potremo partire a breve. Era presente ovviamente anche la stazione appaltante, il provvediterato alle opere pubbliche che ha delineato finalmente un quadro in accordo con quella che è stata fino a poco tempo fa una controparte e oggi è l'impresa che eseguirà questi lavori per un importo di 51 milioni di euro interamente a carico del governo e del Ministero delle Infrastrutture. Un incontro oggi, come ho detto, significativo perché abbiamo raccolto l'impegno da parte dell'impresa che ha garantito ormai l'allineamento, come dicevo, l'inquadramento di tutti i nodi che fino a qualche giorno fa rappresentavano un ostacolo e conseguentemente un ritardo che siamo pronti a partire. Il periodo è quello di settembre ma dato che la stessa impresa ci riferisce che determinati ordinativi e degli appalti sono già stati eseguiti sono già nelle condizioni di poter allestire il cantiere entro l'estate. Un momento per noi molto importante. Abbiamo rappresentato anche la necessità da parte del nostro Comune di avere un coordinamento che farà riferimento proprio al provveditore rispetto anche alle opere accessorie legate alla viabilità con FVG Strade e legate anche all'infrastrutturazione fognaria in capo all'ETA che permetteranno a quell'area di essere adeguata ad ospitare un penitenziario, una casa circondariale di quelle dimensioni. Abbiamo avuto anche la contezza del periodo previsto, fatti ovviamente tutti gli approfondimenti del caso, la garanzia è stata di 20 mesi di lavori per quanto riguarda l'esecuzione e poi altri 4 mesi per quanto riguarda il collaudo. Quindi in 24 mesi, inizio del 2027, potremmo vedere finalmente all'opera la casa circondariale di San Vito Tagliamento. Un'opera importantissima che è stata sostenuta dall'amministrazione comunale, dalle amministrazioni comunali e anche dalle forze politiche del territorio per le grandi ricadute che avrà appunto sulla nostra cittadina. L'importanza non solo mandamentale ma a livello regionale e non solo per quanto riguarda questo importante servizio. Le ricadute economiche, pensiamo alla garanzia che ci è stata data dall'impresa, di far ricadere gran parte di quei 51 milioni sul territorio, con ditte del territorio, anche perché la stessa impresa Pizzarotti ne ha convenienza e quindi vuol dire l'infa vera, reale, concreta sul territorio per le nostre imprese, quindi un elemento di grande slancio economico, di grande forza economica, ma poi anche l'aspetto sociale che non è in secondo piano e riguarda il modello di casa circondariale, di reinserimento e reintegrazione dei detenuti nella società perseguendo i valori e i principi della nostra carta costituzionale, ma anche un tassello all'interno della riorganizzazione delle carceri del nostro paese, perché purtroppo ci sono molti siti che non garantiscono quei criteri standard, minimi per i detenuti, quindi parte da San Vito un'operazione che coinvolge tutto il nostro paese, noi siamo profondamente orgogliosi e contenti che avvenga qua e naturalmente come amministrazione comunale insieme a tutti i partner saremo in prima linea, sia in questa fase, lo siamo stati in passato, continueremo a farlo, ma anche poi per i ruoli di attività, per i ruoli legati alla vita del carcere nel nostro territorio. Ricordando, questo vorrei sottolinearlo, anche per chi legittimamente ripone dello scetticismo rispetto al valore del carcere nel nostro territorio, che saranno da protocollo rafforzati tutti i presidi di sicurezza e di sorveglianza, a partire dai carabinieri, ovviamente alla Polizia Penitenziaria, alla Polizia dello Stato e alla Guardia di Finanza, quindi noi avremo un aumento considerevole della sicurezza sul nostro territorio e non il contrario, questo è importante sottolinearlo e anche diffonderlo come messaggio perché il valore di quest'opera, così importante, ricordiamo 51 milioni contro i 26 milioni di circa 8 anni fa, quindi rappresentiamo anche questa lievitazione ovviamente dell'opera per tutti i motivi che possiamo intuire negli anni e vogliamo assolutamente che venga accolta dalla nostra comunità, da tutta la comunità come una rivoluzione vera e propria un salto di qualità per quanto riguarda la crescita e lo sviluppo della nostra cittadina, seguiranno ovviamente tutti gli aggiornamenti del caso su questo canale e negli altri strumenti di comunicazione istituzionale del nostro comune. Altre due belle notizie, piscina comunale, abbiamo stanziato, verranno avviati tra poco i lavori per 45 mila euro per quanto riguarda la sostituzione dei filtri, l'analisi e lo smaltimento delle sabbie filtranti, rifacimento di spogliatoi e altri interventi idraulici. Un intervento che fa parte di una programmazione ampia di manutenzione straordinaria, di rafforzamento di una struttura che proprio da poco ha ospitato i campionati nazionali di nuoto pinato paralimpico e rappresenta un punto di riferimento per tante persone, per tanti cittadini che fanno sport, per tutto il mondo dell'associazionismo legato alla disabilità è ovviamente un punto di riferimento per San Vito, per tanti comuni che vengono qua proprio a svolgere tante attività sportive e sociali, pensiamo per esempio anche al punto blu, quindi al centro estivo che partirà quest'estate. Un grande ringraziamento per la collaborazione al presidente Giovanni Raggi, al consiglio direttivo, a tutti i volontari, all'insegnante, a tutti coloro che permettono alla realtà della piscina di San Vito di poter crescere insieme ovviamente all'impegno del nostro comune. Un altro intervento di grande interesse per quanto riguarda il mondo dello sport a San Vito, 240 mila euro investiti, andremo a investire per il centro sportivo di Via Prodolone. Nel dettaglio avvieremo dei lavori edili, la sostituzione di infissi, adeguamenti elettrici, rivestimenti antisdrucciolo per quanto riguarda le tribune e le scale, manutenzione, una manutenzione straordinaria del manto della pista di atletica, il rifacimento delle aree del salto in lungo e del lancio del peso e poi una manutenzione importante, straordinaria delle tribune e dei bagni pubblici. Anche in questo caso vogliamo ringraziare tutte le società, tutte le attività sportive che operano all'interno di questa struttura, il nostro polo sportivo di Via dello Sport a Prodolone. Un ringraziamento particolare alla SD San Vitesse, che è titolare della Convenzione per la Gestione, ma anche la Libertas Atletica San Vito e le tante associazioni, partendo anche, arrivando anche al Centro Giovanile Calcio, per le iniziative di grande importanza per i nostri ragazzi. Quest'estate ci sarà anche un camp per i nostri bambini e naturalmente la prima squadra della San Vitesse e tutte le attività che insieme anche ai meeting di atletica e le iniziative sportive danno grande prestigio alla nostra cittadina. Quindi da parte dell'amministrazione comunale, del nostro comune, non verrà mai a mancare l'impegno anche di carattere finanziario, proprio per manutenere e per rendere sempre più funzionali e sempre più idoni gli spazi appunto a Prodolone. Eventi di questo fine settimana. Oggi alle 20.45, qua al Teatro Rigoni, ci sarà la serata conclusiva del Festival Canoro dedicato a bambini e ragazzi da 6 a 13 anni, con il piccolo coro della Polifonica Tomadini. L'evento si chiama Una canzone per te e l'attività sarà a scopo benefico a favore dell'AIL della sezione di Pordenone. Questa sera qua al Teatro Rigoni alle 20.45. Mentre sempre stasera alle ore 20, alla Chiesa dei Battuti, come di consueto, ci sarà un concerto di Adriano Del Sal alla chitarra e Luis Bondan al violino finalista del Piccolo Violino Magico 2018 per lanciare e presentare l'edizione 2024 del Piccolo Violino Magico. Un evento di grandissima importanza per la nostra cittadina che ci porta in una dimensione internazionale e ospiterà, come ogni anno, i più grandi talenti del violino sotto under 12, sotto i 12 anni. Quindi un momento per noi veramente importante di musica, ma anche di promozione della nostra San Vito e con la felicità di vedere sempre tante persone con le loro famiglie in particolare, quindi questi ragazzi con le loro famiglie, da tutto il mondo, nei nostri locali, nei nostri spazi, e vivere per qualche giorno la bellezza di San Vito e permettere a noi di vivere le emozioni di questo grande concorso che da tanti anni ormai è ospite nella nostra cittadina. Il Piccolo Violino Magico. Un ringraziamento particolare all'Accademia d'Archi a Rigoni, al Presidente Sante Fornasiero, al Direttore Domenico Mason per permettere appunto a San Vito di poter ospitare un evento di questo prestigio. Sempre stasera al campo sportivo di Savorniano continua la festa dello sport. Un tornado di calcetto e green volley appunto presso il campo sportivo di Viegaziole a seguire l'ora 19 e l'apertura dei chioschi e poi alle 21 un po' di musica con DJ Teso. Domani, sabato 22 giugno, un altro grandissimo evento di una significativa importanza per San Vito. Proprio qua al Teatro Rigoni alle ore 18 e 30 ci sarà un evento che abbiamo fortemente voluto come amministrazione di San Vito insieme a quella di Codroepo con la quale organizziamo diversi eventi che ci uniscono, uniscono le nostre città, le nostre comunità in particolare nel nome dello sport e nel nome della cultura. L'evento si chiama Terra Tagliamento Cuore della Regione. Un convegno organizzato insieme all'Associazione Terza Ricostruzione ci sarà il Presidente Sandro Fabbro, Chiara Scaini che è una ricercatrice ambientale e poi Angelo Floromo che tutti conosciamo e spesso ospite a San Vito, uno scrittore a premio nonino 2024. Un incontro per noi importante, sarà presente anche la Regione rappresentata dai consiglieri regionali, i territori perché con questo evento vogliamo rilanciare l'idea di un tagliamento che non divide come succedeva nell'ordinamento delle province, superato, ma unisce quindi la volontà che le comunità rivierasche possano esprimere la propria forza e valorizzare le proprie identità e peculiarità per promuovere il proprio territorio ma soprattutto valorizzare quello che è il fiume Tagliamento. Un fiume che unisce, un fiume che permette di fare diverse attività insieme per le nostre genti, per la nostra comunità, per valorizzare le nostre tradizioni, ma in particolare la forza di una candidatura, quella del fiume Tagliamento a patrimonio dell'UNESCO. Quindi la volontà di rendere il nostro fiume un patrimonio così importante per l'umanità e crediamo che le ricadute di questo riconoscimento siano a 360 gradi di grande valore. Quindi San Vito e Codroep insieme, due comuni rivieraschi separati solo da Tagliamento, ma in verità uniti da questo fiume, uniti dalle tradizioni, dalle identità che ci accomunano e rafforzati nella volontà di offrire alle comunità un disegno forse diverso, ma il disegno delle comunità, il disegno del nostro Tagliamento insieme naturalmente agli altri comuni e a tutti coloro che vorranno far parte di questo percorso che iniziamo in modo ufficiale proprio domani alle 18.30 qua al Teatro Arrigoni. Domenica 23 giugno, musica d'incanto, un concerto all'ora 18 presso la nostra loggia comunale con l'orchestra da camera della nostra filarmonica sanvitese, tanti maestri interpretati e con la direzione di Simone Commisso. Non mancate alle ore 18 di domenica, di domenica 23 giugno, presso la nostra loggia comunale. Le mostre di questo fine settimana, Vincenzo Labellate, Geno Locci, una mostra bellissima di fotografia organizzata col craft nella chiesetta di San Lorenzo, aperta sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19.00, vedute del San Vitesse, del nostro Bruno Sant in castello, sempre sabato e domenica 10.30 alle 12.30, 15.30 alle 19.00, e Paolo Iacchetti, numerazioni occulte, una mostra appena inaugurata all'ospedale dei Battuti, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Tanti eventi anche questo fine settimana a San Vito, venite a visitare le nostre mostre, state con noi perché San Vito ha ancora veramente tanto da offrire in questi fine settimana di inizio della stagione estiva. Grazie e buon fine settimana a tutti.